La scelta vincente per un'impresa come la vostra può essere la salute? Direi proprio di sì, anzi oserei dire che è un prerequisito, per cui noi su questo versante siamo continuamente impegnati, anche se facciamo ortofrutta destinata al mercato fresco e quindi come spesso si dice, parte dalla pianta, dove la pianta l'ha generata, l'ha fatta crescere, noi la gestiamo e poi arriva al consumatore finale così com'è, non siamo industria di trasformazione, in questo caso non facciamo prodotti trasformati. Però rispetto al passato, quando si parlava soprattutto di fare qualità intesa come qualità gustativa per il consumatore, fare un qualche cosa che fosse buono da mangiare e rispondesse alle esigenze del gusto del consumatore, oggi il nostro impegno, a parte questo, quindi fare prodotti buoni da mangiare, è sicuramente su altri due versanti. Il primo è questo qui, della salute, quindi di garantire la sicurezza alimentare, quindi l'igiene dei prodotti, la salubrità dei prodotti e in modo particolare, soprattutto per il prossimo futuro, anche rinnovarci con prodotti che hanno un contenuto salutistico, un ultraaceutico maggiore di quelli che oggi abbiamo. L'altro fronte piuttosto importante è invece lavorare molto sul versante del controllo dei processi impegnati come quelli di coltivazione delle piante o di gestione del prodotto in un magazzino di lavorazione, perché abbiamo l'obiettivo di applicare tutte quelle tecnologie che sono di basso impatto ambientale e in modo particolare che fanno anche risparmiare energie, consumi energetici o evitano emissioni di CO2 nell'ambiente. Quindi un ragionamento di tipo ambientalistico molto importante che non interessa solo gli agricoltori e gli operatori del settore, ma ovviamente anche il consumatore finale e la collettività. Cosa importanti sono i prodotti zdrowi per la strategia di Conad e come i consumi rispondono per questo settore mercato? Per noi e per Conad la scelta di prodotti strategici e non cronici è un punto di topic in le nostre strategie. Credo che l'utilizzo di questo prodotto per i nostri consumi potrebbe aiutare a avere una migliore posizione, una migliore differenzione per il mercato e per i consumi. Stiamo ancora migliorando questo, stiamo ancora includendo molti opportunità e promozioni in questo area e credo che per il futuro potrebbe essere la migliore pratica, anche per aiutare i nostri consumi a vivere meglio e anche per i nostri banali a vivere meglio nei mercati. Quanto conta per Orogel la ricerca orientata verso un prodotto sano e nutrizionalmente corretto? Per Orogel è fondamentale fare prodotti orientati al benessere e soprattutto anche alla qualità. Orogel poi è un'azienda che lavora da 40 anni nel settore dell'ortofrutta e come stamattina i vari relatori stanno dicendo che questo è un mondo ricco di sostanze benefiche per la salute umana. Quindi il nostro gruppo sta facendo grandissime ricerche proprio per dare ai consumatori dei prodotti sanissimi, studiati proprio per incrementare la salute, per aiutare anche in casi di problemi e quindi con la possibilità di curarsi a tavola.